C'è una recensione, il paperino 489, il volume che è uscito a fine mese di febbraio, che troviamo in edicola a marzo. Una copertina non delle migliori, ma ormai siamo abituati a questo genere di copertine, purtroppo non di alto livello. Ma guardiamolo meglio insieme. Ed eccoci dunque pure a questo mese alla recensione del paperino 489. Una copertina brutta, ma non perché sia brutta nel modo del disegno, nel tratto, ma perché è semplice, troppo superficiale. A me questa copertina sembra in realtà una vignetta, una piccola tavola inserita in una storia, non una copertina. Un po' mi dispiace perché Coppola ha davvero gran talento, è un uomo dalla grande esperienza a Disney, e queste copertine secondo me non ne possono caratterizzare il suo tratto unico. Comunque, questo è il paperino di marzo, nonché è uscito appunto a fine febbraio, 3 ore 50 come sempre, e sono queste le storie. Troviamo un redazionale, una pubblicità legata a Paper Sera, che dovrebbe uscire ormai a breve. Questo nono, ormai decimo volume, io continuo sempre con entusiasmo a comprarlo, e poi ne parleremo insieme. Paperino e l'equivoco canino è la storia inedita di Jacco Seppala e Fleming Anderson, due autori che sicuramente lo scrittore non ho mai sentito, l'altro un po' meno, ma che comunque non conosco molto. E poi abbiamo altre sei storie già edite, conosciute, principalmente dal Paperino. A me questa cosa non piace, più che altro a me che le ho tutti, vedere ristampe di storie inedite della TV Paperino precedenti, ma vabbè, mi rendo conto che sono uno dei pochi a collezionare dal primo numero, e quindi ci può anche stare. Il deposito non lo comprerò, non mi interessa averlo, mentre questa è l'inedita, davvero interessante, la storia è molto divertente e surreale, visto che Bolivar, il cane di Paperino, esce di casa perché non viene sfamato a sufficienza, o almeno questa è la sua pretesa, vorrebbe mangiare di più, insomma. E qui accadde la particolarità di questa storia, in quanto Bolivar viene prelevato da dei cani alieni, identici a lui, mentre quindi prende il posto del cane di Paperino, il re del San Bernardo degli Alieni. Insomma, una storia folle, una storia surrealissima. Dunque, ripeto, Bolivar si ritrova tra una marea di cani come lui, alieni, mentre il re alieno, cane, diventa il cane al guincio di Paperino. Non so se mi avete capito, spero di sì, ho cercato di sintetizzarla nel più facile possibile, ma non è così semplice. La storia è carina e divertente, l'unica pecca, non è la lunghezza, che comunque sono 20 pagine, è che la storia è del 2020 e la storia non è comunque mai vista, ma mai vista in Italia, nel mondo già esiste. Io preferisco sempre che la storia sia completamente nuova, quindi creata appositamente per me che compro questo volume, ma forse pretendo troppo ogni volta, non lo so. Paperino è il tesoro dal passato presente. Di Paperone vuole indagare su una sua bananiera andata a fondo. Cos'è una bananiera? È una nave apposita che Di Paperone ha creato per trasportare unicamente banane. Chiede a Paperino e nipotini di ritrovarla, ma risulta impossibile. Infatti in tutto ciò, nel luogo in cui potrebbe esserci la nave in questione, accadono cose strane. Quindi, tra i nipoti, tra Paperi e Archimedes, si cerca un po' di capire qual è il nesso che collega questa sparizione con questa serie di avventure strane. Una storia digeribile, mi viene da dire. Forse un alimento è commestibile, ecco, godibile, ma nulla di che. La storia poi è piuttosto lunga, e a me quando si va a creare una storia legata a un tesoro, legata ai pirati e all'avventura su nave, dopo un po' mi viene la nausea, onestamente. Paperino e la casa gonfiabile. Questa forse è la storia più carina che c'è nell'albo, insieme all'inedita, posso dirlo tranquillamente. Infatti troviamo comunque la scrittura Carlo Candy, uno dei miei autori preferiti da sempre nel panorama Disney, autore di tantissime storie, anche con Cavazzano, come questa che arriva dal topo 719. Quindi parliamo di una storia di 52 anni fa. Una storia davvero interessante in cui Dio Paperone propone a nipoti e Paperino di fare da cavie per un suo progetto delle case gonfiabili. Inizialmente a Paperino non gli interessa, perché ovviamente c'è sempre poi doppio finale che Dio Paperone si aspetta da suo nipote, ma nel giro di poco cambia idea e proverà pure questa ennesima dunque esperienza, che ovviamente si rivelerà con un finale amaro per tutti, come sempre. Però la storia mi è piaciuta perché è originale, si vede che è del tempo di 50 anni fa, Candy Cavazzano, tra l'altro un Cavazzano molto acerbo alle primissime armi, parliamo di 52 anni fa, che per oggi si ritrova tranquillamente in una storia bella, attuale, che potrebbe tranquillamente essere riproposta anche su un topolino moderno. Mi è piaciuta, ecco. Paperino e la telefonino mania. Una storia del 2000 ed è interessante citarlo perché la storia narra di un avvenimento epocale, importantissimo per il periodo in cui parliamo, ovvero l'arrivo dei telefoni cellulari portatili, della telefonia mobile. Paperino dunque vive questa esperienza, come tutti noi anche nel mondo reale, come di rivoluzione ed evoluzione, partecipando tra l'altro anche alla prima competizione di telefonia mobile, per affinire qual è il telefono più potente, qual è il più veloce e il più ergonomico. Infatti il concorso dà la possibilità a tutti di partecipare. La storia è molto bella, sicuramente se fosse eletta negli anni 2000 sarebbe stata bellissima. Risulta essere un pochino scontato l'esito, comunque non così rivoluzionaria, a me che la leggo nel 2021. Ma ci può tranquillamente stare, visto che la storia viene creata esclusivamente per gli smartphone, che poi ancora non esistevano, del tempo. Quindi non vedremo telefoni comunque touch, non vedremo roba particolarissima come abbiamo adesso, ma vedremo telefoni però strutturati similmente l'uno dall'altro, tranne per la dimensione, quindi con schermetto e pulsanti. Ci può stare. La storia comunque è simpatica. Di Paperone e Rockerdac dispersi. Una storia in cui Paperino non figura mai, tranne in una vignetta. Per quanto la storia sia bella, perché come da titolo i due miliardari sono dispersi per qualche ragione che viene spiegata e dovranno capire come uscire da qualsiasi sperduta. Ma non voglio dirvi altro della trama, un po' perché altrimenti vi rovinerei un po' il finale e lo svolgimento, ma che ci azzecca questa storia con i due miliardari in Paperino testata come fumetto? Insomma, secondo me questo è un errore, perché io quando ho lessi i titoli dissi, vabbè, Di Paperone e Rockerdac dispersi sicuramente ci sarà un motivo per questa inserita qua. Invece addirittura questo poca cura, questo poco interesse nell'inserire una storia che di fatto con Paperino ci azzecca niente, anzi ve lo dico tranquillamente, la sua faccia la vediamo unicamente comparire a pagina 131. E tra l'altro non compare neanche fisicamente, semplicemente perché Di Paperone pensa a quello che sta concludendo Paperino in questo momento, ma non è per nulla protagonista, ma neanche secondario. Quindi delusione, sono deluso oltre che preso in giro, mi sento preso in giro visto che la storia non narra Di Paperino, e l'avrei vista bene su Zio Paperone. Ecco, secondo me è stato un errore, per quanto mi riguarda, ecco. Giovani Mermotte non si nasce ma si diventa, per fortuna questa è stata, che se ne dica o meno, sia forse la migliore insieme al topo settimanale, i grandi classici attualmente in edicole, non solo, per il parco Disney, e io continuo a comprarla. Paperino e il percorso della salute, sesta storia in cui Paperino riceve in eredità da un suo prozio un terreno piuttosto grande, nel bel mezzo del deserto, quindi nel nulla più totale, eccolo qua. Allo Di Paperone, questo terreno non interessa minimamente, per cui lascia carta bianca ai nipoti. Paperino deve trovare comunque un'idea su come sfruttare questo terreno a proprio favore, proponendo dunque di realizzare una corsa a jogging attorno al deserto senza smog e senza caos cittadini. Devo dire un'idea ambientalista piuttosto geniale, in classico stile di Paperino, quindi cercare di porre a suo favore qualcosa che può essere utile a tutti. Ovviamente parliamo di Paperino, e quindi il risultato rischia di essere piuttosto scontato, come di fatto è. La storia è molto lunga, ma ciò non vuol dire che non sia bella, anzi, appunto, il finale è questo, anche se si invertono le parti, e sta a voi scoprire il perché nella lettura. Qualcuno mi chiede perché non compro Paperino in team, ma perché non mi interessa proprio. Ecco, io compro Paperino, in quanto Paperino testata, con la sua numerazione 489, non mi interessa comprare Battella Pesca all'infuori di esso, visto che già non mi soddisfa tante volte questo fumetto, lo compro per puro collezionismo, e non sempre ve lo consiglio, quindi sicuramente non mi interessa comprare questa roba qua. Ultima storia, ma non per importanza, Paperino e la montagna d'oro. classica storia con Paperino e nipotini, si ritrovano a vivere un'esperienza in camping in mezzo al bosco. Ciò che accade è scontato, ovvero che Paperino si disperde dopo una serie di sfortune, e si ritrova semicosciente nella casa del signor Jeb, un tipo particolare che comunque lo aiuterà a tornare dai nipoti. Eccolo qua. Insomma, nulla di che tanti, troppi dialoghi, e disegni neanche troppo invitanti. Guardate questa pagina, quanto è ricca di dialoghi, e il disegno non mi piace neanche, ora non per demonizzare gli scrittori, ma voglio vedere chi abbiamo. Lucio Leoni e Emanuela Negrin. Effettivamente sono autori che io non conosco, anche se Leoni è comparso di recente nell'ultimo topo. Ma insomma, parliamo di una storia di 21 anni fa, 22, che ovviamente mi interessa relativamente, non consiglio la rilettura, ecco. E questo era il Paperino. Abbiamo poi l'anteprima della prossima copertina, che a molti già piace, ma io voglio essere critico fino in fondo in ogni cosa, e onestamente sì, sembra bella, sicuramente un pochino più dettagliata, pure come colori, come situazione, però il tratto che Paperino ha, vedete, proprio negli occhi, nel cappello, nella sua fisionomia, sembra non completo. Io spero che non sia così, infatti viene anche scritto che la copertina potrebbe subire variazioni. Allora, perché me la mettete qui, se è incompleta? Non lo so. Di fatto poi la copertina, ecco, è in classico stile Paperino, con un primo piano suo, in questo caso con i bassotti, che cercano di buttare giù, e assediare il deposito. Vedremo, tanto lo comprerò, visto che io dal numero 1 ad oggi, non mi sono perso un numero, ormai da quasi 50 anni, è incredibile, comunque mancano 11 volumi, al numero 500. non vedo l'ora, perché questo significa grande festa, per uno come me, che li ha tutti. Che dire, lo consiglio? Non tanto. L'inedita in realtà è carina, se si può definire inedita, perché di fatto esiste già in Danimarca. Abbiamo un altro paio di storie interessanti, come quella della casa gonfiabile, la telefoninomania, belle storie. Tutto il resto, ecco, tranquillamente evitabile. non consiglierei la lettura in generale, però fate voi, io l'ho preso, ed eccolo qua. Dunque, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao, ciao.